Sono venuto a conoscenza di alcune esigenze di società sportive che in mancanza di strutture che potessero accogliere si recavano o presso la spiaggia o addirittura sulla strada stessa per potersi allenare e fare preparazione atletica. Da lì l'idea di fare una ricognizione degli immobili comunali è vedere quale immobile potesse accogliere queste società di calcio 11. Mi rendo conto che c'è un impianto sportivo denominato Recanati che appartiene al comune ma è stato dato in gestione ad un'associazione sportiva. Vado a vedere che questa associazione da contratto doveva garantire delle ore al comune di Gela e oltre a questo vado a notare anche un non pagamento di quello che era il canone previsto della gestione d'uso dell'immobile verso il comune di Gela. Quindi con questa nota che io ho inviato ieri al sindaco, al vice sindaco, al settore patrimonio chiedo una valutazione dell'intera vicenda quindi tutti quelli che sono gli atti amministrativi e dei contratti affinché si possa fare luce su questa situazione e potere permettere sin da subito l'accesso alle società sportive che fanno richiesta di spazi o di ore all'interno di quella struttura. Dunque adesso lei ha chiesto un immediato intervento da parte dell'amministrazione comunale per chiarire in maniera molto più dettagliata questa vicenda. Si chiede esattamente se dal 2014 ad oggi questa associazione ha fatto prevenire dei pagamenti all'interno della tesoreria del comune di Gela e in qualche modo se l'associazione ha impiuto tutti quelli che erano ioneri contrattuali quindi anche l'alleguamento del campo di gioco, quindi l'omologazione che permetterebbe a tutte le società sportive, oltre di fare allenamento da dentro, anche di disputare partite di campionato. Con un notevole vantaggio perché il comune di Gela e tutte le società sportive si ritroverebbero ben due cambi per allenarsi a giocare Enrico Mattei e il campo del Recanati lasciando libero il Vincenzo Presti alle prime squadre come il Gela Calcio e il Terranova.